Slim 4 VIT, per la prima volta. Stabilizza l'attività del dimagrimento nonostante i bioritmi. Sera, non permette al processo brucia-grassi di fermarsi durante il sonno. È difficile dimagrire. È solamente perché questo processo non va d'accordo con i vostri bioritmi. I nostri bioritmi dipendono direttamente dallo stile di vita. Metabolismo rallentato, basso livello di ormoni brucia-grassi, che vengono rilassati solo in determinanti momenti del sonno. Slim 4 VIT, il bruciamento dei grassi si arresta completamente e avviene un aumento di peso incontrollato. Impostate il dimagrimento secondo il vostro regime individuale con l'aiuto di questo preparato innovativo. Viene inibito il rilascio di ormoni catecolamini, che favoriscono l'accumulo di masse grasse tra i tessuti. Favorisce una rapida pulizia dell'organismo. Pulisce sangue e linfa. Elimina sale, scarti, liquidi in eccesso. Rende il tratto gastrointestinale in salute. Migliora il metabolismo. Frutti di garcinia più laminaria più spirulina più valeriana più caffè verde. Più donano sazieta lungo. Il che diminuisce notevolmente la quantità di cibo assunto giornalmente. Rallentano il processo di invecchiamento.Verso il settimo giorno di assunzione del preparato I pazienti hanno perso dai 3 ai 7 kg di massa grassa a secondo del peso iniziale. Miglioramento garantito di tutti gli aspetti della vita salutare, abbassamento e controllo del peso barra verticale Aumento della capacità di muoversi grazie alla maggiore energia. Assenza di crisi e di desideri di mangiare cibi dolci. Comodita a livello psicologico. Il livello del colestero.